Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, non fate caso al mio look di oggi perché è una roba che, ok, avevo su un altro make up, poi sono andata a modificarlo, c'era tanto carino, semplice, sono andata a modificare e poi non mi piaceva, quindi ho fatto una modifica sulla modifica, cioè vi dico che all'interno dell'occhio ho messo prima un verde, poi l'ho tipo coperto con un grigio, così. Vabbè, non ci ho vinto niente, anche i capelli oggi vivono una vita propria, quindi ascoltate la voce e non guardate il mio aspetto. Detto ciò, ciao a tutti, come avrete letto dal titolo oggi, video sui preferiti del periodo, ho diverse cosine molto 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 interessanti, quindi cominciamo subito. E cominciamo proprio con una cosa che indosso, in realtà ci sono due cose che indosso oggi che ho inserite all'interno di questo video perché sto amando profondamente. La prima di cui vi parlo sono i capi di Ojean Sapart, io ho collaborato a lungo con Ojean Sapart e amo profondamente la loro qualità, infatti mi allenavo sempre con i loro completi perché comunque sono belli esteticamente, di ottima qualità e perfetti durante l'allenamento, nel senso che danno il giusto sostegno senza stringere o strizzare, modellano un pochino, sono comodi, quindi io comunque durante l'allenamento non avverto il fastidio di qualcosa che, non so se vi è mai successo di indossare dei capi comunque fastidiosi durante l'allenamento. Quelli che sentite indosso, invece no, questi diventano proprio come una seconda pelle, hanno sempre resistito benissimo ai vari lavaggi. Durante la gravidanza io non mi sono allenata, adesso tornando sul sito di Ojean Sapart sono rimasta davvero piacevolmente sorpresa perché hanno creato diverse linee che vanno un pochino ad adattarsi alle esigenze di diverse persone con diverse fisicità. E questa cosa mi piace tantissimo, ad esempio c'è la linea PT, ci sono le linee più morbide, ci sono le linee, ecco, quelle come ho preso io adesso, più comfy, come le vogliamo chiamare, per chi non vuole indossare capi aderenti. Perché io ad esempio in questo periodo non sto amando troppo i capi aderenti, preferisco capi comunque morbidi che per me sono un po' una coccola in questo periodo. E sto usando tantissimo questi capi sia per stare in casa sia per uscire, ad esempio per andare a fare delle passeggiate, sono veramente comodi e pratici, solita qualità di Ojean Sapart. Vi aggiungo qui una carellata dei capi che avevo ordinato, sono tutti quanti set, vi devo dire sì, mi sto trovando veramente molto bene. Se vi può interessare vi lascio il link nel box informazioni, vi lascerò poi il link anche delle varie altre cose. E sempre se vi può interessare vi scrivo tutto nel box informazioni, ve lo scrivo anche qui, c'è una promozione attiva utilizzando il mio codice. Vi invito comunque se volete a dare uno sguardo al sito, perché così almeno potete avere un po' un'idea a 360 gradi di tutte le linee che hanno a disposizione adesso e anche degli accessori. Peraltro adesso sono in casa e al di sotto, ad esempio come reggiseno ho uno dei loro top, perché mi trovo veramente benissimo, perché danno sostegno senza stringere, sono perfetti. Se vi può servire per regolarvi con le taglie, io ho ordinato tutte taglie L, perché in questo periodo come vi dicevo amo vestire proprio comoda, potrei indossare comunque anche una M, preferisco comunque stare comoda, quindi ho preso di tutto, insomma una L. Detto ciò continuiamo, passiamo alla sezione makeup, vi devo segnalare assolutamente questo, che è uno dei miei correttori preferiti del periodo. Il Tentidoll Ultra Wear All Over Concealer. Io lo sto utilizzando nella tonalità 03 ed è perfetto. Vi dico, è leggermente aranciato, per cui riesco ad utilizzarlo anche senza mettere al di sotto un altro correttore arancione. Se metto al di sotto quell'arancione ho ancora maggiore coprenza. È un correttore che io trovo ultra coprente e mi piace tantissimo perché rimane davvero super sottile. Non so se voi avete mai utilizzato il fondotinta Tentidoll Ultra Wear, è uno tra i miei fondotinta preferiti e vi dico che questo ha assolutamente la stessa qualità, fantastico. Dura tranquillamente da mattina a sera, non secca la zona, un ottimo correttore. Poi sapete io sono un panda nel corpo di una ragazza, quindi sono un ottimo tester per quanto riguarda i correttori. Se funzionano su di me, io dico sempre così, funzionano su tutti, perché se coprono le mie occhiaie, coprono le occhiaie di tutti. Restando in tema occhiaie, questa, me la sto decantando in tutti i modi questa cipria. È la mia cipria preferita appunto nel periodo, la Banana Powder di Radial. È una cipria giallognola che quindi una volta applicata sull'occhiaia aiuta a contrastare ulteriormente il colore scuro dell'occhiaia, scusate la ripetizione. Ed è meravigliosa perché è ultra sottile, non è polverosa, non segna, anzi dà proprio un bel effetto lisciante. Mi piace davvero tantissimo. Ha il suo costo perché ogni volta che la nomino c'è qualcuno che mi dice, ma è costosa. Sì, è vero, è costosa, ma non ve la segnalerei se non fosse un prodotto davvero molto molto valido. Io la utilizzo solo e soltanto per il contorno occhi e quindi 9 grammi di prodotto mi vanno a durare davvero tanto nel tempo. Quindi secondo me è un investimento che ha senso. Se avete un contorno occhi ovviamente particolare come quello che posso avere io. Quindi sto sempre attenta ad utilizzare prodotti che non siano polverosi, che non mi mettano in evidenza i pori, le linee di espressione, che non mi vadano a seccare questa zona. Quindi questa ci tenevo a segnalarvela perché secondo me è un'ottima, un'ottima cipria per il contorno occhi. Ecco, per me quello è un investimento. Il fondotinta preferito del periodo non posso che nominarvi questo, lo Zero Defaut di Vrochet. Ve ne ho parlato a lungo. È adatto a tutti i tipi di pelle, è idratante, dura tutto il giorno. Ha un'elevata pigmentazione che quindi gli permette di avere una coprenza modulabile da media elevata. È molto molto sottile, ma se necessario può essere stratificato appunto per ottenere maggiore coprenza. O su tutto il viso, solo in alcune zone. Anche stratificandolo comunque non fa spessore. Non segna e nonostante sia comunque un fondotinta con un'elevata coprenza, dà un bel effetto naturale sul viso. Quindi non dà quell'effetto mascherone. Mi piace proprio tanto. Voi sapete io sono anche una patita di mascara e il mascara preferito del periodo, anche di questo ve ne ho parlato a lungo. Soprattutto nei social magari, non so se tutti voi che mi guardate qui su YouTube mi seguite anche su Instagram. Di questo ve ne ho parlato sicuramente su Instagram. È il 24 ore instant volume up to the stars di Deborah Milano. C'è anche lo scovolino che è Clessidra. È tutto in uno praticamente. È uno di quei prodotti che io sto amando in questo periodo perché con un attimo mi permette di ottenere il risultato che desidero. Questo con un attimo va a curvare, allungare e volumizzare. Non si sgredola, torra tutto il giorno. Non appiccica le ciglia e bastano poche passate. Modulabile ma con poche passate ottenete l'effetto quello ciglia finte che piace a me. Veramente veramente ottimo. Poi altro preferito del periodo è questa mini stampante per le foto. Questa è di Kodak. Praticamente si scarica l'app sul cellulare e dal cellulare si vanno a stampare direttamente le varie foto. Non sono foto giganti. Ovviamente come potete vedere dalla grandezza sono foto piccine. Ma mi piace tantissimo proprio per questo motivo. È un oggetto che posso portare tranquillamente in borsa perché comunque è piccolino. Non pesa, è molto leggero. Quindi anche se sono in giro e faccio una foto con qualcuno posso stamparla e dargliela per dire. L'ho trovata un'idea molto simpatica. Credo che possa essere anche un'ottima idea regala. Adesso ci avviciniamo al periodo di Natalizia. Anzi fatemi sapere se potrebbe interessarvi un video sui consigli per i regali di Natale. Sapete io vado sempre a scovare queste cosine particolari. Altro preferito del periodo che veramente... Allora quando l'ho acquistato era un po' titubante. Vi dico la verità perché mi dicevo ma sarà l'ennesima cosa che compro per cercare di avere la scrivania ordinata per quanto riguarda il make up. Che forse non funzionerà perché nel corso degli anni io le ho provate tutte praticamente. E alla fine mi ritrovavo sempre ad avere il make up all'interno delle pochette. La restavo scomodissima perché poi per trovare le varie cose poi le lasciavo fuori perché se le rimettevo all'interno. E poi per cercare il prodotto successivo dovevo ritirare fuori tutto. E alla fine mi rimaneva sempre tutto sul tavolo. Cioè una roba allucinata. Invece adesso ho preso questo organizer che è meraviglioso perché ogni cosa ha il suo spazio. Quindi io prendo il prodotto, lo utilizzo e lo rimetto nel cassettino. Lo adoro. Poi la sezione quella dove ho i prodotti più a vista è comodissima dove ho i rossetti eccetera eccetera. Questo è stato un ottimo acquisto. E sono quattro moduli praticamente che si possono gestire come uno più comodo. Quindi metterli tutti impilati insieme oppure come ho fatto io oppure separarli tutti. Insomma veramente carina. Poi non posso non parlarve neanche qui. Sono diventata la spacciatrice ufficiale di questo specchio praticamente. È uno specchio makeup che mi ha sorpreso. Nel senso che quando io l'ho comprato non pensavo, non me ne era accorta. Non avevo visto questa caratteristica. Me ne sono accorta nel momento in cui l'ho utilizzato la prima volta. E da lì l'ho cominciato a consigliare a chiunque la roba assurda. Allora praticamente ha lo specchio, quello tradizionale. Che mi permette di truccare l'intero viso nonostante come vedete non è che sia gigante. Mi permette di truccare l'intero viso perché nell'immagine riflessa entra l'intero mio viso. Girandolo però è un 10 per, quindi cioè io vedo, lo utilizzo questa parte con lo zoom. Si dice con lo zoom su uno specchio, beh insomma sì credo di sì. Lo utilizzo per le sopracciglia perché essendo così ravvicinato praticamente riesco a vedere ogni singolo peletto. Non me ne sfugge più neanche uno. Cioè anche quelli più piccoli che stanno appena ricrescendo si vedono benissimo. Cioè ragazzi questo per il makeup e per le sopracciglia secondo me è fantastico. Veramente veramente fantastico. Lo zoom lo utilizzo anche se magari devo andare a correggere leggermente l'eyeliner. Perché così almeno vado con un eyeliner di precisione e lo vado a sistemare proprio bene bene bene. Serie tv avevo iniziato a vedere Squid Game. Ma l'ho abbandonata perché per me in questo momento è un po' troppo violenta. Ecco non ho fantasia adesso di vedere una cosa così violenta. Anche se mi intriga molto quindi più avanti comunque lo vorrei finire di vedere. Il programma mi sta piacendo tantissimo è Matrimoni a prima vista su Real Time. Ho scoperto questo programma solo quest'anno per poi vedere che in realtà questa è la quarta edizione. Praticamente per chi non l'avesse visto è un programma molto particolare perché formano delle coppie che non si conoscono, ci sono mai viste. E queste coppie si vedono per la prima volta il giorno del loro matrimonio. Quindi si sposano, letteralmente si sposano. Partono per il viaggio di nozze, fanno un periodo, un breve periodo di convivenza. Dopodiché devono decidere se divorziare o restare sposati. Questo lo trovo un esperimento sociale veramente molto molto interessante. Vi dico la verità. E io poi sono entrata proprio nel vivo del programma. Lo sto vivendo con loro. Ad esempio quando litigano alcune coppie dico no perché lo fate siete così carini. Quindi niente io aspetto il martedì per matrimonio a prima vista. Poi tanto il martedì non lo riesco quasi mai a vedere. Quindi ogni tanto durante la notte metto lì sull'app a rivedere insomma la puntata persa. Cibo del periodo ragazzi, la pizza. Sto mangiando pizza a volontà, diventerò io stessa una fetta di pizza perché veramente mamma mia c'è la pizza con le patate. Quanto è buona la pizza con le patate. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro cibo del periodo. Il mio, se devo dire, un cibo che sto mangiando spessissimo e che forse per me mangierei veramente tutti i giorni è la pizza. Per concludere l'altra cosa che come dicevo all'inizio che indossavo è il microfono wireless. Questo peraltro mi è stato regalato da Marta alla quale mando un bacio enorme. È fantastico. È fantastico, è comodissimo. Praticamente c'è un altro pezzo così che è attaccato alla telecamera. Mi permette di parlare a voce bassa ma di avere un audio di una qualità eccellente a mio avviso e al tempo stesso quindi di non disturbare Giulia. Adoro, adoro. Un tutt'uno ragazzi, un tutt'uno. Veramente questa è stata una cosa, una scoperta fantastica. Per chi magari è alla ricerca di un buon microfono per la videocamera questo lo straconsiglio perché è veramente ottimo. Io già avevo un Rode prima, quello classico insomma. E già quello era eccellente. Questo secondo me è ancora migliore. Comunque ragazzi, con questo è tutto. Io vi invito come sempre a riguardare anche nel box informazioni. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre cose preferite del periodo, le vostre fisse del periodo. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!